Ciao a tutti ragazzi, io sono A e io sono R e oggi siamo tornati dal primo video del canale Lasciate subito un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina perché così vi arriveranno le notifiche di quando pubblicheremo un nuovo video Noi ragazzi su questo canale pubblicheremo challenge, provare a non ridere con acqua perché infatti siamo di stare speciali di quando aggiungeremo degli iscritti In speciale quando arriviamo a, non lo so, 40 iscritti, 10 iscritti, 5 iscritti Ah, andiamo a bussare all'azienda a casa Poi ragazzi, vedremo un poco quando non titterà nessuno Ehi, non so mai Comunque siamo a te più R, le tue sorellastre Ragazzi, comunque noi non possiamo portare tanti video al giorno perché non è che ci possiamo vedere ogni giorno Non siamo né sorelle ma siamo amiche strette Ah, tipo solo le lastre ci conosciamo da quando appena siamo nati, cioè ci conosciamo da... Quando sono nata, lei non era nata, però è nata lei e subito ci siamo conoscerti, sì Poi ragazzi possiamo portare anche video sulla Playstation perché io e lei giochiamo a Fortnite, solo che lei è un po' più scarsetta Però non fai niente, dai Accettiamo, magari le impareremo anche a giocare un po' a Fortnite di più Eserciteremo Poi faremo tante cose, cioè magari visto che faccio calcio e lei fa danza, lei fa un po' di danza a me e io fa un po' di calcio a me Infatti volevamo dire che noi non porteremo anche tanti video al giorno perché non siamo sorelle E poi perché non abbiamo tanto tempo, soprattutto l'inverno che viene la scuola, dobbiamo andare a scuola, dobbiamo fare posti E soprattutto l'inverno Dobbiamo andare a danza, io dobbiamo andare a danza, lei deve andare a calcetto Porteremo penso almeno un video alla settimana, poi vedremo un po' voi a casa sua, lei a casa mia Sì, perché poi nella mia casa c'è anche la terrazza, quindi possiamo fare un sacco di cose, possiamo brullare, possiamo... E' grande e grande la terrazza sua Ci dovete un po' di limiti, ci sono tante cose Trovo il trampolino, diciamo, è un po' un acciotto Possiamo fare anche un video dove facciamo palestra Lo sai, lo stavo per dire io Oh mio mio Però giuro ragazzi, siamo pure telepati Però poi se vogliamo faremo, proveremo anche a fare slime però proprio con... Io li sto a fare slime Gli ingredienti, io no, perché non l'ho mai fatto Cioè, se ho fatto una volta con la mia amica Prendiamo la polla però senza Dixon, perché il Dixon è azzurro, quindi l'ho fatto diventare azzurro Se prendiamo il liquido per cantina, che è trasparente, lo facciamo di tutti i colori che vogliamo Lo possiamo fare anche trasparente e bianco Uno trasparente, tutto trasparente, uno tutto bianco Poi... Comunque noi siamo due pazze, quindi non fate nulla Per non ci farei caso Poi ragazzi, volevo dirvi anche, che questo canale abbiamo chiamato... Calciatrice e ballenina Non ci ricordiamo neanche come l'abbiamo chiamato Calciatrice e ballenina, perché io come ho detto faccio calcio E lei cosa fa danza E quindi sono sport che piacciono entrambe a tutte e due Poi magari in un video vi diremo anche... La nostra passione, come è nata Vi volevo dire che noi avevamo un altro canale Sole e luna Sole e luna che faceva schifo E quindi abbiamo deciso di aprire questo Se non l'abbiamo anche questo fa schifo, sinceramente Ma boh, no ragazzi, volevo parlare di una cosa Voi supportateci sempre E mettete like, commentate, seguiteci Perché se voi ci darete supporto Noi cercheremo sempre di migliorare di più Saremo pure più felici nei video Saremo un po' più pazze ancora Più allegre Molto più allegre Quindi ragazzi, mi raccomando Mi prego Quanti video al giorno possono uscire? 2-3 video Possono uscire? Quanti video vogliamo al giorno? Perché siccome Allora dipende Tipo se sappiamo che nella settimana Ci dobbiamo vedere ancora Perché siccome noi di solito andiamo a mare Però adesso siamo iniziando Sempre a mare e sempre a uscire insieme E infatti Quindi possiamo fare un po' più video Porteremo anche molti ospiti Penso più amiche mie che sue amiche Infatti secondo me Sono mia amica Per Se scriverà No, buono Vabbè comunque ragazzi Il video finisce qui Sì, il video finisce qui Speriamo che vi sia piaciuto Come avevo detto prima Nell'intro Un like Un commento Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Noi ci becchiamo In un prossimo video Ragazzi Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo